Dopo la stupenda cavalcata che ha portato l'Amen Scuola Basket Arezzo in serie C-Gold, arriva la brutta notizia per impegni personali. Omar Serravalli, il coach che ha condotto la squadra a questo traguardo, non sarà l'allenatore della prima squadra, Maranto, nel prossimo campionato di C-Gold. Impegni personali non permettono all'allenatore che ha riportato Arezzo nel quarto campionato nazionale di basket di poter seguire la squadra anche nella prossima stagione, come avrebbe voluto. Essere stato scelto dalla SBA a gennaio, ha detto Serravalli, per guidare la squadra è stato un onore e una grande gratificazione. Faccio sinceramente fatica a descrivere le emozioni che abbiamo provato in questo finale di stagione. Con il passare dei giorni stiamo realizzando che siamo riusciti a raggiungere un grande obiettivo. Ringrazio tutti, la società e i ragazzi, per l'opportunità che mi è stata data in questi sei mesi. Di permanenza ad Arezzo rimarrò sempre il primo tifoso di questa società. Chi indossa i nostri colori, ha commentato il presidente Mauro Castelli, ha sempre la mia gratitudine. È bastato così poco tempo per apprezzare l'impegno e la professionalità di Omar che ci ha guidato a un traguardo storico al termine di una stagione, che ricorderemo a lungo. L'affetto e la stima nei suoi confronti mi portano ad augurarmi che questo possa essere solo un arrivederci. Grazie Omar, conclude il presidente Castelli, sarei sempre il benvenuto nella nostra famiglia.